Esistono nell'universo cose che l'uomo non è in grado di capire. Cose che ci scrutano, ci seguono e che classifichiamo come fantasia. Qualunque cosa sia sta diventando più grande. C'è qualcosa che vi sta osservando. Qualcosa nel buio che non ha nulla di umano e che cerca di entrare nella vostra vita per farvi conoscere. La paura. Vlog, il fluido che uccide.